No, devi aprire la porta, che cazzo tu hai? No, devi aprire la porta. Ah, sì. A first, son. The testing begins now. I will learn your secrets soon enough. Report. Await my arrival. Save your strength, human. Rekha must have run into some trouble. We have her beat. Sam, what can you tell me? I'm sensing a biological transmitter in your bloodstream now, attempting to neutralize it. Okay, that's priority too for sure. Any idea how to break out of this? The containment fields only interact with living matter. If you expire, the field around you will extinguish until manually reset. As you know, my access to your physiology allows me to enhance your vital signals when required. I can also do the opposite. Whoa, whoa, whoa. Kind of don't want to die today, Sam. After stopping your heart, I would attempt to resuscitate, of course. Are there any other options? None that I can determine. All right. Let's do it. Ryder, good luck. You better come back. Stopping your heart. Now. Sam? Stimulating the cardiovascular core. Zero activity. Stimulating the cardiovascular core. Yeah, the core. The core. The core. The core. That seems to have done the trick. Of course it did. Glad one of us was sure. You two look comfortable. Down. Now. Let's find a way out of this cage, huh? There is a maintenance corridor connecting to this room. Okay. Must be where to access it. I'll look for it. And while we've got the chance, may as well snoop around. Might be useful intel. Go look at your monster! Until this specimen messes up to your arrival. Among my people I've known. What's that? Archon, do you hear me? Now you have two Pathfinders to deal with. And we're not impressed with your security. I've got a lot of damage. I've got a lot of damage. I've got a lot of damage. Captain Hadrian and Venro have time to set up the EMP. I'll be in touch. Are we sure she's a part Krogan? Allora, aspetta, facciamo un giro e... Vediamo se... Allora, la prima volta, almeno questa. Non so se possono essere utili. The last thing you asked These turians possess a useful exoskeleton. In mondi, in mondi, potrebbe provare davantaggioso. Più più intrigante, c'è disciplina su loro. Adherenza a un ordine militare. Un'efficienza effettiva per instillare obedezza. Addicolati specifiche saranno necessari per studiare. I quelli che chiamano Asari. La loro riproduzione è una mixa di biologia, pensi e ricordi. Prendono ciò che bisogna da una specie, come dovrebbero. La riproduzione non può restare a chance. La rata superiore dominante. Ma questi Asari pretendono, altrimenti, una meldinga, che chiamano, imbracendo eternità. La biologia non ha uso per la poesia. Nel fine, i quelli di arte possono provare la più uscita. Un'efficienza effettiva per il umano è il più percorso. Eh, mi sembrava. Che è una cosa inutile, direi. Per loro. Vabbè, noi ci studiano tanto per. I Krogani sono una rata brutale, che potrebbe essere uscita. Organsi e un temperamento. Fatti per uccidere. Anche gli altri specifichi sfruttano. L'efficienza genetica è uscita per limitare la popolazione Krogani. Ma mi chiedo, senza questo difetto, potrebbero essere non stoppati. Ok. Ogni razza ha il suo perché, tranne noi, a quanto pare. Eh... Ok. Questo l'avevamo già visto. Eh, aspetta, ci siamo. Vabbè che magari il video l'avrò fatto single, e poi nel caso ve lo divido. Così almeno ho un'idea anche più chiara della... di tutta la missione. Sì, penso che farò così. Magari se le missioni sono lunghe, io me le registro tutte insieme e poi... tipo esce un'ora e mezza di video, me la divido a metà, eccetera, eccetera. Bam. Sì. Non lo so, ma gli spaccheremo... Un attimo è stato. Aspetta. Eh, aspetta, fatemi capire dov'è. Dove possiamo bassoare. Questa qui. Questa qui. Stiamo avvicinando... Eccoci. Questa è un Krogan? Questa è un Krogan? Non più, non è. Non è più. È un mio scato che mi ha scato. Non lo so. Non lo so. Questa è un Krogan. La DNA è un Krogan, ma è davvero alterato. È chiaro che i Krogani sono stati in successivamente exalto la specie. Questa è un Krogani. Siamo in linea Sì, siamo qui Capitain Hager, questo è Ryder. Abbiamo arrivato l'Archon Sanctum D'accordo, e noi stiamo facendo l'EMP. Deve disabilita i guns Vabbè, però intanto la Selezioniamo, ce ne sono un bel po' Sono comunque i punti di ricerca Selezioniamo, selezioniamo Selezioniamo Questo obiettivo non serve un utile È l'equivalente di junk L'Archon sta spostando in la scuola Selezioniamo Questa è un dolore è un'occoverte in the vault on Eos Look at that Meridian It's Meridian Coordinates secuered, Pathfinder So that's what you're after There's more to Meridian than you know Changing the weather is a fraction of its power And I will not allow you to defile it You didn't allow me to escape your little trap either, did you? I wasn't you It was the artificial intelligence in your head I've seen what transpired in the laboratory And now I know what makes you Too special Meridian is mine I've tolerated you long enough Once your vessels are destroyed You'll be stranded here Captain, fire the EMP Done Aia Aia Sì, Pibi non era proprio il top da portarci qua Mi sa, eh Visto che non era proprio una combattente Qua ci vogliono due krogan Non male che ce ne abbiamo almeno uno di krogan Perché se no moriranno male Eh Se la pensa anche lui così Colosso Sì, 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 ce la siamo a fare un attimo No, no, pensavo peggio Sì, ho messo questo che era... L'abbiamo usato in modo di... Comparsa che... Comunque aveva il suo perché Ok È possibile che non c'è niente da fregarci qua sopra Cioè, nella camera dell'arconte Non ci sta qualche cazzo Cazzo di arma prepotente Qualcosa di... No, eh Vabbè Sembra strano Ma a quanto pare Damose, damose Non tu vorri Non c'è Devebbero scegliere Cazzo Cazzo Eh vabbè però quello è il pioniere Lo so che i krogan sui krogan Però dai cazzo Dai Dai capirai Drac che cazzo almeno ci sta aiutando Anche Comunque è leale come Cioè spero sia leale Eh Eh Questo è il bello anche di Cioè di mettere In realtà di fronte A scelte difficili Ma E' così E' così E' così E' così E' così E' così Quanti Tempest E' pure quel figlio di puttana che Perché Perché Con la sua Spera del cazzo Ok Ok Ora secondo me Facciamo in tempo Pure a salvare i krogan Ti deve mettere giustamente Di fronte a una scelta E' dai Ok Eh Perchè comunque era il pioniere Il leader del gruppo Quindi magari possono aiutarci Di qui la terra Tra virgolette semplici soldati Non lo so Ricognitori però Mi spiace per Drac Che è comunque il nostro Grande amicone E quindi capirà Capirà Forse Anche se questi sono quelli Che hanno sviluppato la Genofagia Quindi sono anche un po' Proprio gli scienziati Materialmente Non c'è un buon rapporto Tra La razza di Del pioniere Che abbiamo salvato Quella dei krogan Però Non c'è un buon rapporto Scusa Quella Qui Qulla 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 Si Qulla 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 Ah, vabbè Eh, che stupo Eh, che stupo salariens on the way out drag it's complicated except it's not leaving my scouts behind was worse than killing them outright and you're not the one who has to explain it to the rest of the clan it was a difficult choice rider but you won an important victory the archon has been dealt a blow your father would be proud that doesn't really matter I'm just glad the team is safe though slapping the archon in the face like this will only make him more dangerous or perhaps reckless your father liked putting others off balance he said the worthy would rise above it and learn to face adversity ably and the unworthy would crumble I'll leave you to your thoughts with reverence arc on this fascination with meridian cannot continue it's the key to our future primus the human knows nothing of its true power even we don't fully understand it our orders are to exalt this cluster not study the remnant questions are being asked about your judgment questions that come from the highest levels the answers will be clear soon enough with meridian we can transform every world in this cluster to our wasteland either the subject submit to exaltation or we will use it to annihilate them this pathfinder has opened the door now we must be the first to cross the threshold we must seize meridian before it does like all lesser creatures it mistakes a battle for the war it doesn't know its weakness or its potential hmm the archon saw my memory flashes he got that from my implant his device went deep our our connections were wide open when sam killed you we hit him once we focus on doing it again we have to rally the nexus and move on meridian ok mille punti vivibilità grande così grande così allora parla con i leader sul nexus va bene quindi possiamo tornare al nexus abbiamo anche altre missioni da fare lì di senso nei ranghi controlla l'email allora aspettate è momento dai vediamo un attimo quale capsule otteniamo le ricompense ok 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 dato sempre quel vediamo qua capsule scientifiche abbiamo fatte tutte militari condividere le depositi sono nascosti attorno nelle stazioni oppure eh devo sbloccare prima questo sblocco lo slot extra per i consumabili sblocco lo slot extra per i consumabili sblocco lo slot aggiuntivo per i consumabili sblocco lo slot extra per i consumabili acquistabile dai commercianti andiamo con questa va e poi dobbiamo vedere anche le missioni apex come siamo messi vediamo se ci dice qualcosa dai vabbè facciamolo sfogare un pochino non con noi magari missioni squadra d'assalto vediamo un attimo se qua abbiamo quella missione che avevamo mandato a fare rapporto missione fallita grande così cazzo oggetti vediamo questa abbiamo una squadra d'assalto quanto ci vuole ah va bene anche tanto quindi potevo si si adesso vado adesso vado ehm qui per la ricerca in realtà dobbiamo vedere un pochino perché eravamo ancora con curazzi curazzi torso n7 plus che è estremamente prepotente rispetto a quello che abbiamo però cerca no questo lo facciamo poi ci sbloccherà quello di terzo livello sicuramente quindi direi quasi di aspettare prima di di svilupparlo no? ehm torso aspetta un attimo n7 6 7 8 9 e 10 quindi è il 10 scudi massimi danni poteri biotici velocità di ricarica biotica noi al momento abbiamo vediamo cosa ci serve per vabbè possiamo farlo comunque quelli opzionali per se una slot vediamo danni poteri biotici combo salute massima si ci può stare ci può stare nei combo le facciamo spesso 2% salute non è che è un gran che però aspetta quale ci abbiamo messo adesso questo qua che è mettiamoci questo e questo direi ok mh dopo di che per la ricerca adesso abbiamo un po' meno punticini ma se io andrei sempre per le corazze comunque ci aumentano i poteri biotici almeno questa qui fino a che punto possiamo arrivare 1 2 3 e 4 ok vabbè poi dobbiamo aspettare no le altre non le sto vedendo per il momento quello delle altre razze diciamo comunque andiamo a leggere la nostra mail e poi sì poi andiamo al nexus allora i unitari sono tornati con notizie per qua ok ok ah d'accordo lasciamo fare ok aspettate quante ce ne stanno ok allora allora a questo punto ragazzi parla con un sacco di gente su haia va bene vediamo se ce ne spara un'altra in teoria di viaggio verso merina parla con leader con i leader sul nexus va bene dai ragazzi allora ci vediamo con il prossimo appuntamento con mass effect andromeda torneremo al nexus a parlare con un bel po' di gente oltre a questi della missione principale io spero che il video magari doppio video sicuramente vi sia piaciuto nel caso lasciate un like condividete seguitemi anche sulla pagina facebook sul secondo canale su twitch per le live instagram eccetera eccetera dai ci vediamo alla prossima allora un saluto a tutti da quel tale ale ciao 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 ciao